Poco prima di mezzogiorno di martedì 8 novembre, i Vigili del Fuoco hanno prestato soccorso ad un furgone frigo, rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario di via Capitello, a Padova. L'autista è rimasto bloccato con la capotta del mezzo contro il tetto del passaggio, a causa di una mancata valutazione dell'altezza. I pompieri, intervenuti con una squadra, sono riusciti nell'operazione di recupero del mezzo, grazie all'utilizzo di un paranco e dopo aver sgonfiato gli pneumatici. Nel frattempo la polizia locale ha gestito la deviazione del traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.